segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te c'è questo tema del farsi furbi che anche questo è emerso come dice insieme alla tosse forse è meglio ma molte persone per esempio che sono in viaggio in questi giorni di vacanza e scoprono di essere positive pur di non rimanere bloccate mettono la mascherina non lo dicono l'ha sentuto sileri infatti l'atto d'accusa di cresante questo dipende da da quanto una persona è disposta a diciamo sacrificare se stesso denunciando una positività e rispettando quindi quindi gli altri io non credo che sia un problema di test perché molti non fanno nemmeno il test e hanno i sintomi e nascondono i sintomi io non credo che sia il problema del test di solito chi va a comprare il test in farmacia e se lo fa se è poi capace a farselo perché quello che ha detto crisanti è giusto nel senso il test deve essere attendibile il test ma deve essere anche capace la persona che se lo fa da solo e vi garantisco che farselo da solo fino a farsi lacrimare gli occhi nel momento che fa il tampone dubito che tutti siano in grado di farselo bene da soli ma chi se lo compra poi voglio dire proprio perché lo ha comprato di solito lo denuncia quando lacrimano gli occhi diciamo che non è abbastanza in fondo diciamoci la verità quindi io sono più preoccupato non tanto da chi si fa il tampone da solo che sicuramente il problema ci sarà da chi lo fa che è positivo e non lo dice ma da chi ha dei sintomi e mette la testa sotto la sabbia non andandosi a fare un tampone però succede lei le sarà successo specialmente ora con le vacanze in grecia in spagna è successo perché molti dicono se sono positivo mi devo fare mi devo fare l'isolamento però se sei positivo innanzitutto contagi tutti quelli che sono in vacanza con te quindi vi fate il passavirus uno con l'altro e alla fine la vacanza ve la rovinate uguale però crisanti dice non si può abolire la pandemia per decreto e quasi che il governo in qualche modo in queste ultime settimane e questa la decisione che ha preso cioè andiamo con gradualità teniamo tutto aperto no è accaduto che abbiamo rimosso gran parte delle restrizioni che c'erano fino a togliere la mascherina diciamo con un allineamento anche più tardivo rispetto a ciò che è accaduto in altri paesi europei nel frattempo è arrivata una diciamo una sotto variante che ovviamente sta creando dei problemi come numeri di contagi e come modesto incremento dei ricoveri c'è un più 15 per cento di ricoveri in terapia intensiva e più un 25 per cento di ricoveri in medicina ma si tratta sempre di numeri estremamente bassi a fronte di contagi estremamente alti in una situazione ben diversa rispetto a quella del luglio dello scorso anno quando la variante che circolava era la delta che era molto meno infettante della omicron e molto meno infettante di questa che abbiamo oggi e molto meno infettante quella abbiamo oggi di quella che arriverà chissà dall'india fra qualche giorno perché abbiamo già un'altra variante in india che sembra ancora più contagiosa però la famosa indemnizzazione il passaggio è questo che sta avvenendo cioè si passa dalla pandemia verso l'endemia in questa maniera penso che poi il professore crisante dice di no ma ci spiega con genovesi e il calamaro però che mi sembra determinante il calamaro però è una storia vincente che io vorrei che raccontasse che non è che possiamo andare a letto senza conoscere la storia del calamaro questo vi è chiaro abbiamo tempo pubblico